Ciao, sono Chiara, studio qui al Bass Lab ormai da un filo di anno, un anno e mezzo. Partendo dall'idea di voler imparare il contrabbasso, sono venuta da Tiziano, gli ho detto un po' la mia idea di imparare anche la musica prima di tutto, quindi teoria musicale, e ho cominciato con i cinque passi e ho visto che con il metodo cominciò ad ingranare qualcosa. Lui mi ha incoraggiato con il basso elettrico perché sarebbe stato più facile per me anche abituare la mano, avendo i tasti e quindi partendo da zero, diciamo che il contrabbasso sarebbe stato un po' ostico all'inizio. Insomma, mi sono appassionata anche al basso e la cosa che mi piace di più anche del metodo è che comunque stai imparando molto della teoria, che è una cosa che fondamentalmente mi interessava di più e quindi sono felice e proseguo il mio percorso.